Allora No, ora siamo in live Ok, allora Ehm Dove siamo? Vieni Entra, entra Entra Comunque ciao ragazzi, benvenuti A questo nuovo video Eh, io sto streamando Se vuoi entrare entri Se non vuoi entrare non entri Aspetta Mago Mago, Mago Aspetta Devo andare Aspetta Sto ricercando amici Aspetta Sì, ho capito Aggiorn Aggiorn Ehm Impostazione party Devo mettere E' gioco Mago Mago Oh, vabbè Ciao Gabriel Sto stream Sto streamando Sto streamando Ho una screen Davvero Sì, sto streamando Ah, è vero Vero Bello Maga Su Tu I U U Gabi Punti Facciamo coppia Facciamo coppia Ovviamente Aspetta No, aspetta Dentro un amico Ah, ok Ok, bene No, se mi invita Mi invita Mi invita Mi invita E anche Aspettiamo un pochino Aspettiamo Ok Aspettiamo Intanto Ok, è entrato Poi dovrebbe Allora Qualcuno potrebbe Entrare Gabino Ah, invito Mago Aspetta Che facciamo Cosa Poi 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 Guardate Il mio nuovo ballo Sto streamando Io Sto streamando Come ti chiami? Aurelio 5 2 0 0 7 Salute Il popolo Di YouTube Io Tanto Continua Fale Da Pucca Pucca Tic 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 Pucca 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 Dai schiaccia pronto Rompa Carlo Che sei cugino Mi sembra Io Continuo A farla Tapp Perché Poi Cos'è Dopo Mi prendo Giustizia Arancione Ahah Yak Dobbiamo Vincerla Per la Live Guardate Se Vinciamo Faccio Questo Sei Se Vinciamo Io faccio Sto 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 Meno Capito? Ok Se vinciamo Facciamo Pucca Voglia Io faccio Ah Clic Ah Io volevo Prenderlo Ma Però Non avevo Quello 200 Viva Sto Sbloccare Ok Non Pallo Classico Vabbè Io lo sbattaccio Sono livello 57 Il mio compagno 59 Dai Dove Andiamo Decide Aurelio Perché Allora Potremmo Andare Adesso A parte Il bagno Di tomato Vabbè Proviamo Impossibile Proviamo Nella Appennacola Ovviamente Perché Io Sono Di E Quello Dove Ci sono Le Caldaie Ah Ok No Volevo Dire Qual È Caldaie C'è Player Andate Sotto Non Meno Player Che Stanno Atterrando Non Sono Atterrando C'è Sono Sacco Che Stanno Atterrando Grande Uri Grande Uccidire Quelli Che Atterrano Ah Non 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 Checca Checca Vopo Rolasio non Avete Che rivette In questo Momento Cухol Sì Dove Fuori Ah Fuori Sulla Sul Detto E Curami Cut E Io Meno ompale Ass S un pompa noce io non hanno 4 grazie aurelo lo faccio questo per youtube no 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 io non c'è nessun materiale Thi ho soltato bende finalement raga sto streame dia c'è uno, ci'è uno, ci ho uno, ci ho uno, c'è uno c'è palero, c'è palero, c'è palero qua 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 qua, eh vabbè uno pure miaurì è in testa me l'ha dato e va bene in testa me l'ha dato me l'ha dato in testa e questo è la cosa brutta anche se abbiamo perso io faccio questo dai tutti balliamo vabbè io ci ho fatto adesso questo dopo ci ho però giubilo che a me piace molto anche se non c'è e dopo giustizia mi lancio una ciotola sì ma io sono lì ok ok raga ok raga che livello sei ok raga ok raga ok raga e sto tizio non vuole tornare vabbè lo espello scusa ma chi hai? un nemico però non vuole e gabrie espellilo gabrie espellilo mi dispiace rompa a call ti do voce e questo non vuole manco entrare raga ci sta guardando un altro ancora ancora un altro quanti scritti hai? 10 10 20 grazie il mio compagno ha 5137 un mio compagno c'è una 22.000 che casco si chiama ok ok il mio compagno c'è una 22.000 ok 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 oh dai oh da be e andiamo c'è mezzo ok raga ok la vostra audio si sente ok andiamo a tomato ok tomato va bene io ho turma dovevo io ho turma gabrie 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 c'è? ah forse è andato a favore vabbè andiamo andiamo e abbiamo più contro quattro andiamo 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 fear e abbandono abbandonato la partita oh vabbè sto dicendo la partata la partata la patata la patata aiuto c'è un nemico ma vabbè ho solo uno shield come l'arma eh si però va un pan va un pan 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 finalmente mi saprò difendere un pan un pan un pan un pan un pan un pan aspetta che qua c'è un nemico guardi è una pistola eh il pan man il pan maia hai aiuto vieni ad aiutarmi non devo morire no 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 mi ammazzo spiegati spiegati ammazzo no è una buona un ambo solo che ho scavato cavi avevo capito quindi perché a dietro non dare il pistolino che smirata aspetta vado a prendere quel pompa smegati a prendere il pompa e l'assalto tutto attento è 51 gabrika sono ciao sono gabri ponte domenica no mi è successo qualcosa messa bloccato il gioco i tre ci stanno vedendo ci stanno vedendo entrare come ci chiamiamo aurelio 2 5 2 0 poi staccato di 5 2 0 0 7 si si è il tuo nome di ci stanno vedendo compito lo sto facendo le tab vedi raga invitata qualcuno alcuni spedetto io con amici che possano giocare danni invito non verrà mai vabbè io per festeggiare io non posso mettere nessuno chi ha già quel triangolo ah è vero che tu non hai triangolo cavoli ehm sai perché ho voglia di cambiare lo zaino del mio skin ecco adesso tu sei il velo 55 e tu sei 43 eh 3 spettatori eh 3 spettatori 3 spettatori 3 spettatori 3 spettatori 3 spettatori bene bene ok non so perché mi era bugato quando ho fatto la tabba davanti al mio amico frè guarda vediamo se lagga ancora ok non lagga meno male ok 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 io tipo quando ci sono per il player io un po da te portate io mi metto in mezzo io ballate avanti io vi osservo ok ah che faccio il bello con la secco perché ok dove andiamo dove andiamo a dove io tu nel aspetta dovremmo servito allora tre persone che ci seguono non sto vedendo io da tempo proprio mi si vede la playstation io no io non stavo guardando trovarai però sono sempre live per un po' in ritardo e ogni live è così io dal tunnel io dal tunnel spero sopra dal tunnel io ci vado il tetto è mio no 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 con cavo che è mi ero potuta ah si giù scaccolalo ah si ma non ho trovato niente che brutto io ho messo il terreno che si chiama gennaro gennaro ho messo il terreno che si chiama gennaro veramente gennaro 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 cavolo no non è gennaro 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 ah ma vabbè sono i tuoi mi dispiace fa dai ho detto non puoi scendere tu che fai non puoi uscire eh va vera oh oh no ho chiesto vai dai skin con la faccia nera ah sta malattata un mio amico è un mio amico vabbè vuole entrare un mio amico cioè proprio adesso voleva entrare adesso chi un mio amico alemante io no è io con mio amico voglio dire parlare c'è le cuffie però lui no no ma mi sognare ok io vorrei comprarmi questo venturione schi eh no 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 pochi vi faccio e poi pochi vi faccio ok c'è sette minuti che siamo in live apparticata oh andiamo nei posti meno meno gente così meno turla di più alla partita ok ah ok scusa tu persone che ci stai seguendo eh no andiamo a Borgo scrivo un commento ok ma voglio non è un posto meno e va beh andiamo a succedere vabbè andiamo a Borgo capito che da cabri sì 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 perchè mamma a me capri basta io ho un uansi 11 dios io pure 11 perché io ci sono del 2006 maia da tra circa un mese avrò 12 anni ah quindi che sei nato a luca lo parola ma non puoi giocare basta vita meriuk che cavolo a 7f siamo insieme stiamo insieme stiamo insieme no perché ci sono tante amici ci sono ma anche se stai con una trappola buono un pompa con la trappola e fare si è giusto non possiamo abbiamo avvi noi vabbè andiamo col piccone andiamo al piccone non ce ne deve pregare nulla vabbè torniamo alla roba non c'è sana un bu non si sa dove ma che fa summer bu le spelletra e spellettono che metto il mio amico sia esperienza infatti uorissame aspetta da sementari auree auree un attimo solo ecco vita vita entro a riu che amico c'è il confianto a lui beh lo tolgo ok ora lo tolgo auree auree ciao auree 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 i nostri amici che entrava ecco riu 20 minuti gli stream no io devo andare come te ciao ciao aspetta faccio un'ultima cosa no buongiorno buongiorno DA 다 buongiorno e dai aspetta metti pubblico metti pubblico non vuoi dire privato devi mettere privato privato e c'era privato ok sbagliato io lascia il comando a me mi puoi me ne mette capogru fa poco 20 contro enti che ne dici è che cammino privato applica ok esperienza non sa manco estassi ma domani vieni a scuola perché il sabato scusa la sabato non c'è niente scusa ma sabato non c'è nulla ma c'è scuola invece vero sì non lo sapevo no ma io sto scherzando è certo siamo a mettere il punto però oh c'è un nemico si chiama e si è morto perché ci sono in giro ci siamo in live uno spettatore oh oh dove andiamo? ah giusto qua ragazzi sto streamello per favore guardate la mia live buttati buttati ok dove andiamo? io sono il terzo va rapido rapido ok ora si vatteranno tutto ok non venire dove sono io ok poi è rabbia che c'è un blu un'altra io ci ho trovato uno scar ancora oppure ok la live è durata solo un'ora lo fa durare solo un'ora tipo ora apro questa gesta e ti faccio lo spazio no ma non succederà un po' ok ancora il mio canale incrascita c'è prima giorno ad iscritti io ho 4 strudine io ho 4 strudine non so ora aspetta ci troviamo qua uno ci ritroviamo là non ok 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 allora ok ok aspettami l'absterione inizia a formare l'enna poi l'ho rotto un altro interno mi ricordo che ci possono essere anche le mie cibo è ok 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 Quanta legna hai? 164 Sì ma gli alberi non li abbacchi, li lascia il 5 No vabbè che niente No ci sono creativi Che nemici No non ci saranno nemici Prendi questo mai è difficile Ok Uh grazie Ma C'è te l'ha dato così Sì A casa Ma non ci lega Che neopriti non si piacere Vabbè rossi fuori Mamma mia Non ci saranno No ci saranno Non ci saranno La parola è iniziare Non ci saranno Non ci saranno sono full anch'io sono full andiamo qua si ok ora io faccio questa piccata oh finalmente va un po così aspetta la penna la penna è forte Marco andiamo in safe con un po' lontano io ti materiali ci sono messi benissimo non puoi piacere 356 e ferro 45 io non ho 40 ci ritroviamo qua come se il punto ah ok ok ahia mi hanno colpito ahia mi hanno colpito ahia c'è uno eh vabbè guarda che aveva aveva uno scaracca eh sono là sono là no 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 poi potevi andarci a combattere ottico no ti riconoscere un fortino un fortino no c'è una jump la uso la uso la uso per andare in safe rispetti ah nemico là nemico là si l'ho visti però no no sulla collinetta c'erano le rocce prima è che davanti in safe era atterrato ecco lo che era atterrato si l'ho visto è che avevo pure di morire va da ammazzare cosa si chiama no no non hai un'arma da fuoco va ci 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 tanto tutti i due contro ora non più un mazzo paolo eh che cava erano in due uno ma non c'è da c'è l'altro e di più che fa se ne va non è che continuassero con me che schifo oh vabbè schifo eh boh sarà incredino vai 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 vabbè 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 marco abbandona abbandona tanto muori aspetta mito salve o' svec vantino di vita bevo ma svec svec di vita non è vero ma non è vero ma non è vero non è vero non è vero no è l'emono chi è summer? non io summer non è summer 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 qui è sci non 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 apri 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 eh cavolo cosa ho fatto? ciao ciao vuoi giocare? si io sto stremmando ok ok un mio amico è un mio amico ok ciao io sto stremmando io ok 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 36 minuti di streaming ok 37 minuti di streaming 37 minuti di streaming ok salvo eh senti si si che c'è? ok non mi fa spattere la scala mi fa spattere la scala mi fa spattere la scala la cadora eh con finnacoli o condotti no no condotti ci sarà meno gente condotti che ci sarà meno gente no 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 la casa me la prendo io va bene eh chi trova cassa si riapre e chi trova si ritrova ma c'è un minuto dove hai condotto eccola ma condotti c'è un bollut buono ma non c'è lo so che non c'è però è buono no c'è una non c'è se vado noi ok ora io la base marrona è la mia ok che è la? la base marrona dai prani dai mi fanno morto dai che schifo di Jaffir si perchè questo qua ha preso l'arma al posto lì che ho preso le granate e le ho tirate e è rimasto con uno di vita e poi ora io vieni da me ok schifo si però non dovremmo salvare il volley ma perchè se devo scontare ci la facciamo vai andiamo niente andiamo 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 qua dove dove è? a condotti a condotti però in quale punto su 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 vorre poi bravo è morto va 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 e un'altra parte dietro andiamo andiamo ma cosa ok c'è io avevo la città grata piccicosa che ci sono andato e ho detto boom però non sono esplosi boh non si sa comunque va buona roba buona roba è tipo isola accompagnare va un po fucile poi granate sciolini o è anche un po da non potremmo cambiare queste queste le potremmo cambiare non ci vorrei morire andiamo andiamo domani forse giro ci trovo cosa non ci trovo ci trovo vedere poi che dei ti ho salvato la vita ora poi lo devi editare poi me lo vuoi dire editare cioè programmare un video cioè modificare un video per esempio aggiungere effetti speciali puoi mettere musiche puoi mettere sticker non mi dico così così ma se la chiudi la porta ok non ci stiamo guardando un po no vabbè vabbè lascio stare quello che ti guarda è uno spettatore ma ci sono degli altri a me mi diceva pura me lo dico vabbè lascio stare lascio stare mi vedete silenzio e forte mi sono ammigliati subito quelli quante tre minuti mi potremmo andare a magazzino ma non sarebbe un rischio no rischio no rischio assoluto perché siamo soli in due e altri team sono in quattro quindi non è meglio non rischiare no beh no che ok pensavo che avevi visto un amico ma ora fino a quanto dura la live? allora 43 minuti ho detto che la live che durerà un'ora quindi fra un po' la live terminerà io mi prendo vuole bene ma mai prendi io prendi oh no voglio vedere il magazzino di ciave vabbè andiamoci sto contento no 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 c'è gente c'è gente sali ti avevo detto con c'è non c'è non c'è chi l'hai vista stai l'hai vista per non rilevo movimenti non vado persone si sono un amperato l'ho visto nella torre non c'è mannaccia oh andiamo tanto sono siamo un po' due andiamoci là la perdiamo eh aspetta arrivo salvo c'è un fortatile dove sono? ma ne prendi prendi l'assalto mi senti? si si ti sento ci senti dove sono? a destra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra ok dove? a destra aureli vai dritto dritto vai dritto a destra poi in questa ah lì eh capito aspetta a sinistra a sinistra a sinistra o no l'ho visto? ok si livello sono là sopra salvo che facciamo? ne pusciamo? no 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 ok tutto su cosa a sinistra ok che lì c'è qua? che lì c'è qua? che lì c'è qua? ok ma questo non lo vendo dubbio dove c'è? no 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 aurelio ho proprio capito ok aspetta aspetta imita un mio amico imita un mio amico imita un mio amico se non entro no lui mi sembra un tipo ora imita un sempre 47 minuti di streaming unitemi a unitemi a me unitemi a me unitemi a me guarda in assoluto ok sei live io so che stream sono io come si chiama il tuo canale? aurelio spagnolo 5 minuti cos'è? andiamo in Napoli palazzo centrale facciamo e ci andiamo facciamo e ci potrebbe andare ah no nessun problema io c'ero ogni giorno e non è tanti i miei scritti soprattutto spettatori come per ora è preciso è preciso perché fai le live quando riguarda soltanto una persona cioè come per divertirsi ma poi mi serve un'altra persona è speciale no no ma poi è una live di prova lanci 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 ora pinacoli perdenti 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 eh perdenti ci sono solo perdenti eh andiamo al centrale centrale la centrale quale ah la centrale qua è la centrale io il pompo ho preso io il pompo babbo fucile preso io se non avessi la bianca del carro la torsina erano gialli la torsina sarà un'altra una ma cosa è da holobime dove è che la torsina la torsina è la torsina è la torsina la torsina lo vedi peperazzi faccio un'altra hai visto ancora non la conosce la canzone guarda la netflix ya qui ci ce l'hanno qui io bene lo stesso qui non c'è la torsina adesso adesso ora mi vado a uscire come quattro vado di farci come te lasciatemi con la trappola mi chiotto quattro cazzo sono grossi? oh c'è uno! 9! 1! ma what? what? va 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 cazzo ho sentito ma era bravo eh ma cosa? che no? beh no ho sentito ok è ammazzato e vabbè mi sta ammazzando quello coltipompa coltipompa aspetta il pompa cavolo già abbiamo perso il compagno guarda quella persona qua vabbè quello è uno del blu io lo ho preso in testa è ingiusta è ingiusta se ne scudo raga per un altro che mi si è allargato che ti ha avuto come vi ho risposto i copi gotti eeeh eh tieni guardando no non sei tu è un altro c'è un altro aia e a me mi hanno messo a terra aspetta l'antino dentro l'antino menti no ma solo per la speciale 10 iscritti ora ora quando arriverà a 100 farò un'altra live non sta avanzando vabbè ora quando arriverà al centro fra una nuova raga qua sopra qua sopra ragazzi non ci ho capito che non ho la fai dato due colpi pompa due colpi pompa vabbè 8 what to find in shish quanto fa che shish ragazzi spero che la live sia piaciuta mi stacco qua stacco la live e già è superato un ora aspetta interrompe